Mettiamo ufficialmente la parola fine ai lavori sull'asilo nido. Il primo cittadino, un assegno da 65 mila euro. Credo che la parola più bella sia proprio solidarietà e l'altra più bella i bambini. Immagino che per un amministratore così come per quelli di Quistello e così come per noi poter dare ai bambini un ambiente sicuro è una delle cose più belle. E quindi ci fa molto piacere aver contribuito a quest'opera che vediamo oggi completa, funzionante e che lo sarà ancora di più prossimo settembre. I fondi serviranno alla sistemazione del nido d'infanzia, struttura prefabbricata, risalente agli anni 70. I lavori si stanno concludendo in questi giorni con la sistemazione delle aree esterne e degli arredi. Per noi è un giorno doppiamente importante, da un lato perché a settembre siamo riusciti a riconsegnare una struttura in grado di ospitare i bambini, di riprendere regolarmente le attività, dall'altro perché abbiamo fatto una struttura antisismica, quindi meglio rispetto a come era prima del 29 maggio scorso.